Oh scusa, non c'è l'audio. Il modo in cui lui si sente senso, ma ripartare la partita a questo punto è vero che sia proprio impossibile, per cui io non lo rischerei sinceramente, solo per dire l'aumento degli ultimi minuti, ma non ha nessun senso. Questa forse è la più grande occasione del Barcellona con il tiro di Xavi alto sotto l'atversa, poi il Barcellona ha provato un po' a pressare, ma paradossalmente per lunghi dati è stato il Bayern a gestire più il pallone e il Bayern a andarsela a riprendere il turnale dal campo avversario. Sì, anche da un punto di vista del possesso palla non è il Barcellona che si hanno avuto l'attore a venire, guarda che il Barcellona si è spesso veramente tanto, ma tanto anche sotto l'aspetto dell'inventiva.